Buongiorno, sono Gianpaolo Pasolini dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento un'ottima Lancia Y1003 Multijet Momo Design Euro 4, vettura dell'anno 2006 con 149.000 km percorsi, naturalmente originalissimi, appartenuta ad un'unica proprietaria. Questa vettura ha un ottimo equipaggiamento, infatti vediamo anche questo allestimento bicolore Momo Design con ruote in lega, maniglie verniciate argento satinato, il tetto, ve lo dico io, è una sorta di nero opaco e il resto è bianco panna. Vi mostro gli interni, questa vettura è veramente in ordine nonostante il chilometraggio percorso. Faccio vedere, eccoli qua, 149.000 km. Monta quest'autoradio JVC, digitale, touchscreen, climatizzatore manuale e servosterzo siti attuabile dal tasto a sinistra. Poi abbiamo alza cristalli elettrici, chiusura centralizzata con comando a distanza e fendinebbi anteriori. Vi mostro anche il divano posteriore, per chi si siede dietro. Vendiamo questa piccola Lancia Ypsilon con 12 mesi di garanzia, legale di conformità, naturalmente. Vi aspetto Gussago in provincia di Brescia per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.